Buongiorno, sono qui a presentarvi la promozione che abbiamo riservato per voi per il mese di novembre all'interno di Cajal Beauty Spa. Allora, questo mese abbiamo pensato al discorso di una coccola corpo, dove parte praticamente un percorso spa a tutti gli effetti all'interno della nostra vasca idromassaggio con la cromoterapia, di una durata di una quindicina di minuti e ci si sposta all'interno della nostra suite benessere con la temperatura di 35 gradi, dove verrà svolto un massaggio parziale a base di oli essenziali, di una durata di 30 minuti, c'è la possibilità di fare tutto il corpo o di eventualmente di localizzarsi su una specifica parte da trattare. Il prezzo riservato per voi per questa promozione è 45 euro. Oltre a questo mini percorso spa, abbiamo pensato che se volete farvi anche una coccola un po' più specifica anche sul discorso del viso, la promozione diventa 45 più 45, ovvero 90 euro. Quindi avete la possibilità di farvi la vasca, un massaggio parziale e un trattamento al viso specifico.